Ancora non è tornato sui proprii giri, manca l'energia. In questo momento non è stato un po' di riferimento, ma non è stato un po' di riferimento. E ha chiesto lui tempo di riflettere prossimamente. Come ho detto, la porta per nessuno è chiusa e si valuterà sempre da giorno a giorno. Non c'è un po' di riferimento, ma non c'è un po' di riferimento, ma non c'è un po' di riferimento. Grazie. Grazie.